Ciao a tutti amici di Work Learn Share Develop. In questo video andremo a vedere come velocizzare il nostro computer. In particolare scaricheremo il programma Ccleaner. Se avete qualche domanda nel box sottostante dei commenti potete contattarci oppure potete contattarci sulla nostra pagina Facebook. Iniziamo! Bene, per prima cosa apriamo il nostro browser web. Quindi clicchiamo sul logo di Windows. Apriamo il menu di start e scriviamo Edge. E clicchiamo su Microsoft Edge. Volendo potete utilizzare anche Mozilla Firefox o Google Chrome. Nella barra degli indirizzi andiamo a scrivere Ccleaner. Come vedete andiamo a cliccare qui su P-Reform C-Cleaner. Andiamo sotto la voce C-Cleaner-Free e clicchiamo su Download from File Ippo. Clicchiamo su Scarica ultima versione ed infine clicchiamo su Salva. Una volta che il programma è stato scaricato premiamo su Esegui. Se il vostro computer vi chiede il permesso di eseguire questa installazione premete su Sì. Adesso chiudiamo il nostro browser e vedete che si è avviato il programma di installazione. Qui in cima al posto di Inglese selezioniamo Italiano e clicchiamo su Installa. Automaticamente verrà installato il programma. Andiamo a togliere la spunta e infine da Vedi Note di Rilascio e premiamo su Avvia C-Cleaner. Questa è l'interfaccia principale del programma. Per velocizzare il nostro computer dobbiamo sempre ripetere almeno settimanalmente due operazioni. La prima è questa di Pulizia. Semplicemente dovete selezionare la scheda Pulizia accertarvi di aver chiuso tutti i browser web quindi Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox e poi premere su Avvia Pulizia. Questo messaggio possiamo selezionare e non mostrare più questo messaggio e premere su OK. Adesso vedete che il programma partirà ed eseguirà la pulizia dei file temporanei che non ci servono più al nostro computer e che occupano solo spazio inutile. Un'altra operazione molto utile è quella della pulizia del registro quindi clicchiamo sulla scheda del registro e premiamo su Sante Trova problemi. Infine premiamo su Ripara selezionati premiamo su No dove ci chiede vuoi eseguire il backup delle modifiche al registro ed infine premiamo su Ripara selezionati e possiamo chiudere. Come detto prima queste due operazioni vanno eseguite settimanalmente. L'ultima operazione che invece va eseguita almeno mensilmente è quello di liberare lo spazio libero. Quindi andiamo su Strumenti e premiamo su Bonifica Drive selezioniamo Disco Locale C ovvero quello con l'icona di Windows sopra scegliamo Sovrascrittura semplice un passaggio e qui in cima solo spazio libero. Tramite questa procedura andiamo a eliminare veramente questo spazio che in verità è utilizzato e quindi il nostro computer sarà molto più veloce. Per avviare la procedura premiamo su Bonifica. Questa procedura richiederà circa intorno all'un'ora o tre ore comunque una volta terminata vi verrà notificato. Siamo alla fine del video come abbiamo detto all'inizio se avete qualche domanda potete scriverci nel box dei commenti sottostante oppure potete contattarci su Facebook. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Grazie a tutti.